è un'altra cosa forse perché in una città sola ci sono due squadre ricchissime di storia che giocano nello stesso stadio non è solo una stracittadina questa partita, spesso, nella storia del calcio ha voluto dire lotta per il titolo appassionati di calcio benvenuti al derby della Madonnina e questa è una struttura di poco superlativa una cornice perfetta per partite come queste grazie non posso dire di essere strano alla sensazione Fabio sono partite che dal punto di vista del risultato lasciano il tempo che trovano eppure, come atleta, hai sempre una molla che ti scatta dentro non vuoi perdere per non abituarti alla sensazione della sconfitta ma soprattutto non vuoi che vincano i tuoi rivali di sempre la partita è già cominciata Luca, secondo te quale giocatore potrebbe rivelarsi fondamentale in questa partita? non ci sarebbe neanche bisogno di dirlo Ibrahimovic sarà il fulcro dell'attacco riunisce in sé le qualità dei classici numeri 9 10, 7 e 11 e può sfruttare il Milan al calcio di punizione c'è la Noglu primo tentativo dell'incontro la mette sulla sinistra trova il compagno in ottima posizione è parata di Donnarumma è stato splendido l'intervento del portiere qui bisogna lodare l'estremo difensore non si è fatto superare Brozovic, pronto dalla bandierina Lukaku occasione fallita è stato sfortunato qui un errore che a questi livelli di solito non si fa era lì, a due passi dal bersaglio Cialanoglu grande prova di forza arriva Ibrahimovic, eccolo da lì può segnare qui cerca Salva Andanovic Christian Eriksen la butta del la toglie dalla porta si esprime in un buon intervento non c'è che dire il portiere è rimasto lucido e regito bene e passa Chier di forza Chier riesce a rubargli il pallone Cialanoglu scatta verso il pallone continua ad andare palla al piede tocco preciso qui deve tirare Brozovic si divincola e conquista la palla buona la sua progressione palla al piede sulla destra palla di nuovo verso il centro gioca una palla lunga decidono di giocarla all'indietro Benazer che sì Cialanoglu ci mette il fisico e conquista il pallone Cialanoglu oggi sta trovando pochi spazi beh i difensori sanno che gran parte del colpisce si è liberato bene peccato per la conclusione non molto precisa Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione il pallone è sulla sinistra ora cosa succederà? Pallone comodo per il portiere bastoni l'arbitro indica chiaramente la rimessa Calabria recupera palla palla in out ci sarà rimessa laterale Cialanoglu Hernandes scatta verso il pallone il guardaline sventola la bandierina è corner calcio d'angolo battuto corto Cialanoglu c'è la palla lunga in avanti riceve in ottima posizione se ne va Lautaro Martinez beh questa idea del cucchiaio non granché ha fatto bene a provarci ma il risultato non è stato quello sperato lotta ma perde l'equilibrio e poteva essere un'azione importante difesa ci prova un gol strepitoso l'Inter ha effettuato un grande contropiede sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol gol per l'Inter assegnato la protesta numero uno numero nove si ricomincia dall'uno a zero dopo questo gol i prossimi minuti saranno fondamentali per capire che direzione prenderà la gara bisogna rimanere sul pezzo e non far ripartire subito gli avversari cerca di lanciare il compagno è occasione persa questa sbagliato l'ultimo passaggio al centro c'è sempre meno spazio bisogna essere precisi e veloci nel passaggio Hakimi ha spazio per affondare pallone lungo in verticale e l'arbitro manda tutti a prendere un teccaldo si chiude così il primo tempo le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti una sola rete messa a segno finora ma la partita è ancora lunga la squadra sta giocando bene c'è un ottimo movimento senza palla i passaggi sono precisi e nessuno ha paura di tentare l'azione personale 1-0 dopo i primi 45 minuti si ricomincia il vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza devono dimenticarsi il gol e continuare a fare il loro gioco come se fossero ancora sullo 0-0 bravo qui il giudice di gara ha lasciato che l'azione seguisse il suo corso ma ora arriva puntuale l'ammunizione i giocatori si salutano e il quarto uomo sbriga le relative formalità adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprezzione gli avversari Hernandez alza la palla in profondità verso un compagno Barella riconquista la palla buono questo tentativo sulla fascia sinistra Hernandez ottima pressione la sua palla recuperata attenzioni indesiderate e marcatura uomo vita dura per i fuori classi offensivi qui da come tirano le magliette sembra che vogliano portarsene una a casa per ricordo stanno provando a limitare gli avversari con ogni mezzo si libera la grande sicuro qui l'intervento del portiere palla a Lukaku Brozovic Perisic l'avversario ha avuto la meglio Brozovic che si non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio Hernandez opta per il lancio lungo ha spazio sulla fascia palla tagliata bassa è proprio questo che devono fare devono insistere sta a loro dare il massimo in questa fase avanzando il più possibile infatti arriva Ebrahimovic eccolo la mette in avanti Samu Castieco Brozovic oggi ci ha fatto vedere le sue abilità di assist man in avanti vuol far salire i compagni un'altra azione in copertura palla filtrante per Lukaku sulla fascia è libero un intervento impeccabile insomma qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta palla che supera la linea laterale sarà rimessa stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol pallone intercettato intervento davvero provvidenziale intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa allarga il gioco con pallone a sinistra lukaku lukaku brozovic riconquista la palla brozovic buona opportunità per perisic c'è retropassaggio difesa difesa molto distratta in questa occasione non possono permettersi di perdere la concentrazione così akimi akimi arriva lexi sanchez la difesa deve interpretare quest'azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo tenendo alta la concentrazione aia ibraimovic infilza il portiere trovano il pari all'ultimo respiro grande entusiasmo dei tifosi passo agile inarrestabile tempismo perfetto e conclusione vincente magnifico per fare un gol simile ci vuole tecnica e velocità di pensiero veramente fantastiche hanno trovato la parità proprio nei minuti finali non c'è più tempo finisce qui finisce dunque in parità e a prescindere dai risultati è stata davvero una sfida spettacolare molto equilibrata